Svegliati da subito Deve essere il jab, deve essere forte da subito Il jab deve essere da subito intenso e forte Così, dai Devi girare, devi girare, ricorda di non andare indietro Devi girare sempre, da tutte le parti Devi iniziare ad attaccare Parti diretto col destro Svegliati Massimo Se no finisce come con l'incontro che hai perso perchè la prima volta non hai fatto niente Dai, partimi col destro Parti col destro Devi guardarlo Devi mirarlo Muoviti, devi splesciare Splesciare Quel jab, voglio vedere quel jab forte Non serve a niente quello che hai Guarda col jab Forte il jab, doppialo Doppia il jab Doppia il jab Massimo Jab, gancho sinistro, diretto destro Sì, col destro attaccato alla testa Dai, Massimo Forza, devi fare il movimento Devi fare il movimento Devi muovere il tronco e le gambe Timing Massimo, timing Movimento di gambe, movimento di gambe Ecco, così, dai, movimento di gambe Parti uno, due Forza, movimento di gambe Tira le mani basse Forza, dai, dai, dai Fai quello di punto Massimo, non stai facendo i punti Avvicinati di più Col diretto al tronco E poi il fermo Forza Forza Così Se facevi il fermo Non ucivi Non ti prendeva Toglilo col jab Direto al tronco e fermo Bravo, bravo, bravo Va bene Va bene Bravo Così Toglili il jab Fai un diretto al tronco Vedi che lo potevi togliere Sì, così Esci Esci a sinistra Quattro colpi dritti Dai, devi cambiare anche Devi cambiare Quattro diretti forte Quattro diretti Devi attaccare Se no attacca lui Forza, Massimo Quattro diretti Sì Sei ancora assolto In questa ripresa stai perdendo Ok Stai perdendo la ripresa Quindi Hai un minuto per recuperare Forza Montante destro Gancio diretto Non buttarti Sei attento Uno, due Passo indietro Montante gancio diretto Veloce Uno, due Passo indietro Montante gancio diretto Però rapido deve essere Dai Deve essere Uno, due Deve essere il disturbo Forza Dai Devi continuare Deve continuare lui Massimo E ti fa la faccia così Forza Fai la schifata circolare A sinistra Col montante Adesso incrociato Forza Ora Dai Jab Schifata circolare E diretto Adesso incrociato Non hai usato Neanche il jab Non hai usato il jab Non hai usato il diretto Incrociato Per troppo lento Per troppo lento Deve essere Stretto E più stretto Forza Forza Montante Che gol Massimo Che gol Che gol Non hai usato il jab